Il Cine Teatro Cannata ha ospitato domenica 2 settembre la rassegna musicale curata dall'Associazione Santa Sicilia di Nicosia dal titolo Musica che Passione. Direttore artistico della manifestazione è il maestro Giuseppe Tamburello. La rassegna musicale prevedeva l'esibizione di tanti artisti grandi e piccini che curati dal maestro Tamburello hanno imparato l'arte della musica suonando diversi strumenti dai fiati come il sax alle tastiere elettronica ma anche batteria, chitarra. Tutti i giovani artisti hanno lasciato la loro impronta in questa serata impressionando la platea composta da moltissime persone soddisfatte dello spettacolo. Lo stesso maestro Tamburello ha accompagnato nelle varie esibizioni i suoi allievi incoraggiandoli dietro alle quinte, soprattutto quelli più emozionati e non abituati alle platee di un teatro consigliandoli e dirigendoli durante la loro esibizione. La presentazione della serata è stata affidata alla professionalità e dalla verde di Pino Casabona che come sempre ha introdotto con un pilo ironico e pieno di humor i vari artisti che si sono alternati sul palco. Il maestro Giuseppe Tamburello da anni segue plasma diverse generazioni di artisti a partire dalle bande musicali che seguono le varie manifestazioni nicosiane come processioni o eventi culturali e da qualche tempo ha messo in piedi questa associazione musicale, una scuola che serve a far entrare nel mondo dell'arte i più giovani. La musica è per il maestro fonte di vita ed egli trasmette questa sua passione e la sua carica ai suoi allievi e da quello che abbiamo potuto notare in questa splendida serata sul palco sono senz'altro sulla buona strada per diventare dei bravi musicisti come il loro illustre insegnante.